Buonasera, ben ritrovati. Sono qui per presentare Licia Troisi, ho già visto che volavano autografi prima dell'incontro, ma solo per dirvi che lo sapete questo è il primo incontro della settimana di bussole e ci piaceva invitare Licia perché siamo suoi fan, ognuno di noi più o meno ha un libro di Licia nella libreria e è uno dei pesi massimi della letteratura fantastica italiana, per cui non ha molti bisogni di presentazioni. Ci piaceva invitare soprattutto lei perché oltre ad essere una scrittrice e anche un'astrofisica, laureata e dottorata in astrofisica, rappresenta secondo noi l'eclettismo che è la cifra distintiva che avranno le persone che sceglieranno l'indirizzo bussole. Licia Troisi. Grazie. Si può andare anche con la presentazione. Allora innanzitutto grazie mille per essere qui. In realtà io quello di cui volevo parlarvi stasera è proprio il mio tortuoso percorso, cioè la strada che mi ha portato a essere qui davanti a voi, perché secondo me è interessante di come le cose non vadano sempre come uno pensa, ma questo fatto non sia assolutamente negativo della formazione di una persona. Anzi io sono convinta che i percorsi tortuosi forse sono quelli più interessanti e anche quelli che portano a risultati anche più divertenti, più belli. E quindi in sostanza vi parlo di me, mi rendo conto che detto così è un po' narcisistico. Ci avremo anche la parentesi, visto che è stato detto che io sono anche un'astronoma, ho fatto l'astronoma per dieci anni della mia vita, anche la parentesi astrofisica, così. Allora, diciamo la linea generale di quello che vi voglio dire è il mio percorso, ma si articola intorno a un paio di domande. La prima è una mia fissazione. La scienza e le lettere sono dei saperi separati e in qualche modo contrapposti, perché questo in linea di massima è quello che siamo abituati a pensare, più che a pensare noi stessi è quello che in genere ci viene detto. La società italiana è strutturata in maniera tale da considerare lettere e scienze due cose contrapposte, tant'è vero che una delle domande che più mi vengono fatte in questi vent'anni in cui faccio questo mestiere è ma cosa c'entra l'astrofisica con la scrittura? E in linea di massima c'è anche una considerazione maggiore per le lettere piuttosto che per la scienza. Quindi la scienza viene considerata qualcosa di un po' più vile, di strettamente tecnico, quindi un sapere che non è necessario che tutti abbiano. Quindi se da un lato giustamente se uno si vanta di non sapere niente di Dante, tutti trasecoliamo perché fa parte del nostro patrimonio culturale comune, se uno dice non so niente della gravità, non so niente di matematica, ok, nessun problema, nemmeno io, in genere quella è la risposta. Vedremo se questa cosa è vera. E poi un percorso che sia formativo, lavorativo, deve essere necessariamente lineare, quindi io ho il sogno da bambino, perseguo quello fino in fondo, tutta una strada precisa, quindi fin da quando sono ragazzino decido che farò quello, seguo quel percorso, faccio tutte le cose che mi portano a far quello e in questo modo sono felice, cercherò di rispondere un po' a queste domande. Allora, la prima cosa è che, sorpresa, io da bambina non volevo fare la scrittrice. La cosa di cui ero veramente appassionata era la scienza. Questo perché nella mia famiglia c'era molta scienza. Mio padre è ingegnere, mia madre ha studiato biologia, a casa nostra giravano delle riviste di divulgazione e quindi mi sembrava anzi quasi naturale che io potessi fare questo nella mia vita. Ho cambiato varie volte la disciplina perché mi interessavano cose diverse. Quando ero molto piccola, probabilmente anche influenzata da mia madre, pensavo di voler fare la biologa, anche perché insomma gli animali sono una cosa che ai bambini piacciono sempre, quindi probabilmente quello era il collegamento. Poi ho avuto il momento paleontologa quando avevo più o meno 12-13 anni, che è l'epoca in cui è uscito Jurassic Park e quindi mi ero fissata con quella roba lì dei dinosauri. Poi ho avuto un momento un po' diciamo a cavallo. Mi interessava anche l'archeologia, quindi mi piaceva l'idea appunto di studiare il passato, quindi una scienza che sta un po' a cavallo. Però diciamo a un certo punto ho cominciato a stabilirmi sull'astronomia. prima però di andare, quando mi sono dovuta iscrivere all'università, ho avuto un momento di crisi di vocazione. Mi sono domandata se non andare a fare geologia, che era un'altra cosa che un po' mi interessava, ma erano dei viechi ragionamenti pratici, perché pensavo noi viviamo in un paese sismico con un sacco di vulcani. Sicuramente i geologi sono tanto tanto richiesti e sarà più facile trovare lavoro, spoiler no, cioè qualsiasi cosa che abbia a che fare con la scienza in Italia non se la calcola nessuno, anche se ti salva la vita. Comunque diciamo questa era più o meno la mia passione da bambina e vi dicevo ho iniziato abbastanza rapidamente, in realtà ho deciso che le stelle erano la cosa che mi interessava di più quando avevo circa 15 anni e il primo contatto però con l'astronomia ce l'ho avuto tramite questa immagine quando avevo 11 anni e io ero a casa da scuola, non so per quale ragione, e vedevo insieme a mio padre questo documentario sulla vita e le opere di Stephen Hawking. Immagino lo conosciate, comunque è stato uno dei più importanti cosmologi contemporanei e aveva anche un'esperienza di vita particolare perché era affetto da una malattia che non si è mai capito bene che malattia fosse, una cosa simile alla sclerosi laterale amiotrofica perché verso la fine della sua vita era completamente, in realtà anche prima, era completamente paralizzato e riusciva a parlare solo muovendo un occhio e componendo delle parole su uno schermo di computer, quindi in realtà era il computer che parlava con lui con questa voce robotica, lui è stato anche un grande personaggio pop oltre che un grandissimo cosmologo, non lo so è comparso nei Simpson eccetera eccetera, quindi aveva senso che il documentario andasse intorno a queste due parti, sia il suo lavoro che la sua vita. E ricordo che la prima cosa che mi colpì erano le domande intorno alle quali l'attività di Hawking si andava strutturando, si poneva delle questioni come è nato prima il tempo o l'universo, che erano cose che io associavo a questa roba che non conoscevo nemmeno tanto bene che era la filosofia o al massimo la religione e il documentario aveva deciso di usare questa immagine ricorrente per questa domanda, perché associava la domanda è nato prima il tempo o l'universo a è nato prima l'uovo o la gallina, quindi periodicamente durante questa storia, questo documentario che raccontava queste cose qui, compariva questa maledetta gallina su uno sfondo di stelle, con quest'occhio fisso che ti guardava. Non so se sia stato a causa della gallina o proprio perché poi è una cosa che probabilmente si prova quando si ci si avvicina almeno la prima volta a questi argomenti, io da questa visione ebbi una duplice sensazione. Da un lato ero affascinata da questi argomenti, da queste cose a pensare che si potessero indagare scientificamente tematiche del genere, dall'altra però questo universo gigantesco così lontano alla nostra percezione quotidiana in cui avvenivano delle cose straordinarie, mi metteva anche in quietudine. E tutto sommato questa ambivalenza del mio rapporto nei confronti del cielo è continuata anche in seguito. In generale l'universo, lo spazio, le cose che ho studiato, da un lato mi affascinano molto e voglio cercare di comprenderle, dall'altro però mi danno anche una sensazione di vertigine. E questa è stata la prima volta che ho cominciato a pensare che le stelle potevano effettivamente essere la mia strada. Poi ci ho messo molto tempo a maturare l'idea che avrei fatto l'astrofisica, però già lì avevo capito che c'era qualcosa che mi poteva interessare. Però contemporaneamente a tutto ciò, quando devo scegliere che cosa fare alle superiori, decido di fare il liceo classico. Io non dici, ma come ti piaceva la scienza per fare il liceo classico? E decido di fare il liceo classico con una motivazione che potete vedere lì, che fa capire secondo me perché non è possibile fare una scelta del genere a 13 anni o a 14 anni? Ho deciso di andarci perché pensavo che era difficile, io volevo fare le cose difficili per dimostrare a me stessa che non ho capito bene cosa. E uno dice già qui però cominci male, cioè ti interessa la scienza, vuoi fare una carriera scientifica e vuoi fare il liceo classico? Sarà stata una battuta d'arresto all'interno del tuo progetto esistenziale? A un certo punto ti sarei detta ma ho fatto veramente una cacchiata? Invece no, perché ci sono tutta quanto una serie di cose con le quali sono entrata in contatto nel liceo classico che poi mi sono servite dopo, che mi piacevano sul momento e che non sapevo che mi avrebbero costruita come persona in tutto quello che poi avrei fatto dopo. Perché ad esempio io avevo questa professoressa di lettere che era una persona molto illuminata, piena iniziativa, ci faceva fare tantissime cose tra cui anche la tessera del teatro argentina, di uno dei teatri che ci sono a Roma. E quindi noi ogni anno facevamo questa cosa e andavamo a vedere il teatro e io in sostanza il primo contatto col teatro ce l'ho avuto così. Non mi era capitato di andarci mai prima quando ero più piccola. Ho conosciuto e tradotto anche l'epica che è stata fondamentale all'interno della mia formazione, mi ha immediatamente colpita tantissimo. Ricordo che quando ho letto la prima volta l'addio tra Ettore e Androma che è stata la prima volta in cui ho pianto leggendo qualcosa. Prima mi commuovevo soltanto nei film e queste cose qui, lì invece mi sono commossa leggendo un'opera poetica comunque del testo scritto. Anche la tragedia mi ha molto influenzata, quindi non avevo sbagliato per fare il liceo classico. E l'ultima cosa la traduzione è divertente perché io alle scuole medie avevo studiato, in realtà fino a quando sono arrivata all'università avevo studiato solo francese perché io sono vecchia e ai miei tempi si studiava un'unica lingua, ero il francese o l'inglese e si sceglieva per estrazione. A me avevano estratto il francese e quindi ho studiato solo il francese. E non so bene perché, forse per come me l'hanno insegnato, la traduzione non era una cosa che mi interessava particolarmente o che avevo fatto particolarmente fino a quel momento. Ho cominciato a comprendere bene la traduzione, cosa significava tradurre, quando ho cominciato a tradurre il latino e il greco. E ha iniziato ad apparirmi come qualcosa, come una specie di puzzle da risolvere. Perché il punto non era soltanto mettere in italiano la versione, era anche metterlo in italiano comprensibile, in modo tale che non si vedesse in qualche modo il passaggio di lingua e fosse scorrevole e piacevole da leggere anche in italiano. E quindi lì ho cominciato a capire che la traduzione mi interessava traducendo il latino e il greco che dice che non servono a niente. Contemporaneamente a tutta quanta questa roba, quindi al fatto che facevo il liceo classico, volevo cominciare anche a informarmi di più su questa passione per le stelle che avevo. E l'ho fatta tramite Asimov, perché Isaac Asimov non è stato soltanto un grandissimo autore di fantascienza, ma è stato anche un bravissimo divulgatore. Tra l'altro anche lui era un po' una figura di confine, perché noi lo conosciamo soprattutto come scrittore di fantascienza, ma era anche un biochimico. Quindi anche lui in realtà si muoveva un po' sul crinale tra le lettere e le scienze. E lui ha scritto un sacco di bellissimi libri di divulgazione e uno me lo regalò mio zio, che è fisico, per dire che la scienza girava nella mia famiglia, facendomi scoprire questo mondo divulgativo di Asimov, che era l'universo invisibile che in realtà è principalmente sulla fisica delle particelle. E poi io mi trovai il collasso dell'universo che invece parlava proprio di astronomia. E quindi in quel modo capì che era quello che volevo fare. Dice però in tutto questo quadro la scrittura in che modo si inserisce? Si inserisce molto presto. Io ho cominciato a scrivere con le mie opere prime, di cui adesso vi parlo, quando ero molto piccola. Ho iniziato a scrivere storie quando ho imparato letteralmente a scrivere, quindi a 6-7 anni. Però in realtà inventavo storie anche prima. Cioè mia madre racconta questa cosa e dice che la prima storia che ho inventato è stato quando avevo due anni, due anni e mezzo. Lei se l'è scritta per ricordarsela. Ed era c'era una volta un coniglietto che aveva le zampette e andava a casa. Che mi rendo conto non essere proprio il massimo da un punto di vista narrativo e della suspense. Però evidentemente era quello il modo con il quale interpretavo il mondo. Io alla fine così ho realizzato. Cioè la mia tendenza narrativa è proprio connessa a un certo modo di funzionamento del mio cervello. Quindi io vedo il mondo tramite le storie e lo capisco anche tramite le storie altrui. E quindi in realtà la scrittura era sempre una cosa che era stata presente nella mia vita. Questi due libri che... libri? Questi due cosi che vedete qui stanno ancora nella libreria dei miei genitori che se li sono conservati. Allora quello più scuro non si legge ma c'è scritto Le Mille e un Alicia che era il titolo che mi ero inventata. Io ero un po' megalomane da ragazzina ed era una raccolta di favolette. Favolette peraltro profondamente ispirate a cartoni animati. Cioè profondamente nel senso che alcune ero copiate. Cioè cambiavano tipo i personaggi ma è la stessa cosa. Perché io sono della generazione degli anime quindi ero molto influenzata da quel tipo di narrazione. C'erano anche i disegni perché mi piaceva disegnare. E l'altro invece è addirittura un romanzo che non si legge anche perché il carattere che scelsi è orrendo. Cindy e Mindy che era ispirato a Lovely Sarah che era questo anime che era tratto da un libro che si intitola La piccola principessa se non sbaglio. Un libro statunitense dell'ottocento. Quelle robe super tragiche con gli orfani. Molto alla Oliver Twist. E quindi io avevo scritto quel libro lì mentre ero bloccata dalla neve a casa di mia nonna materna. Non sapevo che fare e quindi mi sono messa a scrivere questa roba qui. E i miei genitori ovviamente erano molto divertiti a questa cosa. E non mi hanno mai detto ma che ti metti a fare ma che è sta roba. Anzi in qualche modo. Cioè anzi mi hanno incoraggiata. Non nel senso che oh mio Dio diventerai una grandissima scrittrice continua ti prego. Ma nel senso che volevamo dare un peso al lavoro che io avevo fatto e quindi appunto hanno stampato questi questi libri. Tra l'altro è divertente perché quando andammo a stampare quello più chiaro andammo in questa copisteria che si occupava praticamente solo di tesi e cose del genere. Quindi la signora che prese questo mini manoscritto di 20 pagine era molto incuriosita e chiese a mia madre che cosa fosse. Mia madre si vergogna un po' però gli racconta la storia e poi si mette a ridere. E questa signora invece fa no ma signora perché si mette a ridere? Magari poi suo figlio un giorno fa la scrittrice. La cosa interessante però è che per me la scrittura era un bisogno e un hobby. Era una cosa che facevo perché faceva parte di me però la facevo nel mio tempo libero e nemmeno a sette otto anni avevo mai pensato di farlo diventare un mestiere. Non so bene perché a sette otto anni uno ce la può avere l'ambizione fare lo scrittore da grande. Io per qualche ragione non ce l'avevo probabilmente perché era una cosa che mi apparteneva così profondamente che mi sembrava strano farlo diventare un lavoro forse. Quando sono diventata più grande ovviamente su questa cosa si è andata a innestare pensieri più complessi del tipo tutti scrivono perché proprio io dovrei farlo diventare un mestiere cioè perché io devo pensare di avere le capacità per poter fare questa cosa e quindi in linea di massima io veramente mai ho pensato tra i sette anni e i 23 quando l'ho cominciato a fare che avrei fatto la scrittrice di mestiere. Dopodiché bisogna andare all'università e quindi si fa l'altra inversione a U perché decido appunto di andare a fare fisica e quindi questo perché io sapevo di voler fare l'astronoma. Esistono soltanto due facoltà di astronomia in Italia, una si trova a Bologna l'altra si trova a Padova. Io abitavo dietro Tor Vergata, sono pigra, quindi ho deciso di andare a laurearmi in fisica anche perché tutto sommato mi sembrava meglio fare la laurea proprio in fisica sempre per le questioni lavorative piuttosto che prendere direttamente la laurea in astronomia quindi ai miei tempi erano tre anni di fisica e poi si faceva l'ultimo anno di indirizzo in cui decisi di fare astronomia e quindi niente in cinque anni in realtà mi sono laureata perché l'ultimo anno mi hanno chiesto di finire tutti gli esami, io facevo una tesi sperimentale quindi in sostanza andavo a lavorare all'osservatorio vicino Roma proprio come se fossi una ricercatrice quindi non avevo tempo per studiare per preparare gli esami, questa è la ragione per cui alla fine mi sono laureata con un anno in più rispetto a come era all'epoca. Allora, no qui mi sono sbagliata, infatti, no il classico fisica, cioè l'ho riguardata 50 volte e non mi ero accorto di questo. Allora diceva, però tu poi hai fatto la scrittrice, a che ti è servito fare fisica, è stata una cosa inutile, adesso non fai più nemmeno l'astronoma, sono dieci anni che fai solo la scrittrice, a che cosa ti è servito fare il classico? Questa è la prima cosa. Quando sono arrivata all'università ho cominciato a fare un gruppo di studio insieme a quello che all'epoca era il mio fidanzato, adesso è il mio marito e degli amici e io ero l'unica che aveva fatto il classico, sorpresa sorpresa, e uno di questi qui disse, guarda io la prima volta che ho visto quella lettera lì, che è la psigrega, sapevo che era e quindi siccome si usano tanto le lettere greche, le funzioni matematiche fisiche, io dicevo funzione forcone, io almeno sta cosa ce l'avevo già e non mi serviva. Allora però in realtà mi è servito anche per quello che ho fatto dopo, mi è servito perché mi ha dato un metodo, mi ha insegnato in qualche modo come studiare quando è a che fare con delle materie in cui la memorizzazione ha in qualche modo un ruolo, però tutto sommato marginale, cioè le cose soprattutto le devi capire, devi capire la dimostrazione dei teoremi di matematica, devi capire i concetti fisici che ci stanno dietro e i termini matematici in cui vengono spiegati, che per me è una fortuna perché io memoria zero, quindi per me io facessi questo piuttosto che qualcosa di mnemonico, però io lo confesso a fisico ho fatto molta difficoltà soprattutto all'inizio perché io avevo fatto male matematica e fisica al classico che già non si fanno proprio la grandissima e quindi vedevo mio marito che aveva fatto lo scientifico e i miei amici avevano fatto lo scientifico, tante di quelle cose che a me apparivano completamente estranea alla matematica che avevo fatto fino a quel momento, loro già le sapevano perché le avevano studiate, quindi il primo anno è stato molto molto duro e quindi era importante che io in qualche modo acquisissi un metodo e questo metodo mi ha permesso più o meno entro il primo anno di coprire tutte quante le lacune che avevo, quindi essere metodica, cercare di fare un tot di pagine tutti i giorni, cercare di studiare tutti i giorni anche se l'esame è lontano eccetera eccetera, tutte cose che poi mi sono rimaste addosso e che mi servono anche nei lavori che ho fatto in questi anni e contemporaneamente ah no scusate, no fisica, è proprio il classico, allora voi mi dovete scusare, vengo da un ottobre devastante e ieri ero a Roma a fare una presentazione e venerdì a Benevento, quindi se ogni tanto sragiono la ragione è questa qui, quindi no no sì sì il classico, quindi allora il metodo in quel senso mi è servito dopo, però effettivamente anche il metodo che avevo preso alle superiori mi ha aiutata in qualche modo a riuscire a riempire quelle lacune che inizialmente c'avevo, poi ovviamente l'ho affinato con tutta quanto una serie di tecniche e come vi dicevo poi mi sono servite dopo specifiche diciamo per quei tipi di studi che stavo facendo e che poi ovviamente ho maturato anche quando ho fatto la ricercatrice, però sì, anche quello che avevo imparato prima grazie ai professori mi ha aiutata a riuscire ad andare avanti in questo famoso drammatico primo anno e la formazione classica mi ha però aiutata anche a tenere la mente aperta, il fatto che io avessi prima conosciuto tutta la parte delle lettere e poi dopo tutta quanta quella della scienza in qualche modo mi ha dato una visione più ampia delle cose che serve tantissimo nella scienza perché nella scienza il pensiero laterale è fondamentale, quando hai a che fare con problemi scientifici anche lì è una specie di puzzle e molto spesso può capitare che ti fissi su una determinata soluzione che è quella sbagliata e non riesci a uscirne fuori, quindi la capacità in qualche modo di rompere questo circolo perché hai anche delle altre conoscenze che esulano da quelle che ti servono in quel momento è una cosa estremamente utile che mi è stata utile in tante in tante occasioni quindi nel complesso io non mi sono assolutamente pentita di aver fatto il classico perché il liceo classico mi è servito anche per fare fisica. Allora nello stesso periodo però mentre andavo all'università stavo facendo fisica sono successe delle altre cose. La cosa che è successa è che innanzitutto ho conosciuto mio marito che ha aggiunto un tassellino a tutto quello che fino a quel momento mi aveva costruito come persona, il tassellone di tutto ciò che è il mio rapporto con lui e di ciò che è lui per me, ma anche un tassellino nella mia formazione culturale, cioè con lui ho scoperto i manga. Io vedevo gli anime come vi ho detto, non sapevo che esistessero anche i fumetti. Io fino a quel momento avevo letto solo Topolino che era l'unico fumetto al quale tra l'altro attribuisco un'altra enorme porzione della mia formazione perché Topolino ha insegnato a leggere e a parlare veramente a generazioni. Lo vedremo dopo, io poi ho avuto a che fare con Topolino e mi sono accorta che ha un suo linguaggio perché continua ad avere questa missione, cioè di insegnare anche qualcosa oltre a divertire e io ho scoperto libri, questioni geopolitiche. Io prima di leggere le papere olimpiadi che parlavano delle olimpiadi, quelle che ci sono state in Corea, nell'87 mi pare, mica lo sapevo che la Corea era divisa in due parti e c'era sostanzialmente la guerra da queste due parti, me l'ha insegnato dopo lì. Comunque insomma scopro i manga e insieme a lui in realtà scopro tutta la parte della cultura pop che fino a quel momento in qualche modo mi era mancata. Quindi io ad esempio non leggevo di genere prima di conoscere lui, avevo letto tanto romanzo del Novecento, poi avevo letto un po' di cose contemporanee ma molto poco e andavo su quello che si chiama mainstream. Con lui ho cominciato a leggere Il Signore degli Anelli perché noi avevamo questo interesse per il fantastico, io già ce l'avevo. Ce l'avevo però più che altro per videogiochi e cartoni animati, lo conoscevo principalmente da quel lato lì, non avevo mai letto niente di letterario, quindi siccome avevamo questo interesse insieme, io gli feci questo regalo interessato per il compleanno che era Il Signore degli Anelli e poi me lo lessi pure io, quindi era la ragione per cui gliel'avevo regalato alla fine era quella e mi si è veramente veramente aperto un mondo. Io fino a quel momento avevo sempre sentito il bisogno di raccontare una storia più ampia perché diciamo per un lungo periodo la mia scrittura era andata avanti principalmente con il diario personale, però molto letterario tra virgolette nel senso che stavo attenta allo stile, era voler mettere all'interno di quel racconto delle mie cose una riflessione più ampia che non riguardasse solo me, quindi era che io conoscevo quelle storie perché una delle cose che mi succedevano le mettevo giù in un formato diciamo narrativo e poi per un certo altro periodo avevo scritto un po' di raccontini e volevo scrivere un libro, sentivo che mi girano in testa tante cose che sentivo il bisogno di mettere sulla pagina e mi erano venute anche delle idee negli anni, però mi ero sempre bloccata perché pensavo sempre, beh ma di questo argomento non ne so a sufficienza, mi dovrei documentare, come faccio a documentarmi? Considerate che stiamo parlando all'inizio del 2000, internet era una roba completamente diversa da adesso, io andavo su internet per 20 minuti al giorno perché innanzitutto costava e mentre ci stavo non funzionava il telefono, non so spiegare come era la situazione, quindi uno si doveva proprio muovere fisicamente per andare a documentarsi e quindi avevo sempre questa cosa che mi bloccava, oltre ovviamente a quella solita sensazione che tante persone vogliono scrivere, hanno un po' di vergogna, di sentirsi un po' ridicoli. Quando ho cominciato a leggere manga e a leggere Il Signore degli Anelli, improvvisamente mi si è aperto un mondo e ho capito che quella poteva essere il contesto all'interno del quale potevo raccontare le mie storie, potevo andare a mettere tutte quelle idee che avevo in testa in qualcosa di più complesso e lungo e avevo questo falsissimo senso di sicurezza perché pensavo se io invento un mondo nessuno ne può sapere più di me, lo sono inventato io e quindi pensavo, nessuno mi può venire a contestare, ho scritto male questo, ho scritto male quello. Perché è un falso senso di sicurezza? Perché ovviamente anche quando tu crei il mondo, devi obbedire a determinate regole che sono quelle della coerenza interna, perché noi viviamo in un mondo, in un universo che è coerente, quindi che ne so, le penne cascano sempre quando siamo sulla terra per via della forza di gravità e non succede mai che schizzano verso il cielo, almeno per quanto ne sappiamo finora, e quindi ci sono delle regole fisse e certe cose succedono sempre in quel modo lì. Quando tu crei un mondo che ha delle leggi diverse, perché ad esempio c'è la magia, devi necessariamente essere sempre coerente, perché se non lo sei, la persona che è abituata a vivere in un mondo coerente se ne accorge subito e crolla giù quella che si chiama sospensione di incredulità, cioè questo patto diciamo che all'interno delle opere di finzione di tipo speculativo, quindi fantascienza e fantasy sostanzialmente, c'è tra, dicevo, tra lo scrittore e il lettore, per cui lo scrittore racconta delle cose impossibili fisicamente nel nostro mondo, ma il lettore ci crede proprio perché c'è questa coerenza, viene meno questa coerenza, viene meno questa sospensione di incredulità, è come quando sei, che ne so, a teatro e viene improvvisamente giù tutta quanta la scenografia e vedi dietro la gente che la teneva su, i fari e tutto il resto, ovviamente vieni proprio buttato fuori dalla storia a calci, no, la stessa cosa succede con i racconti di fantasy e di fantascienza e io però all'epoca ero molto giovane, avevo 21 anni quando ho cominciato a scrivere il mio primo libro, non lo sapevo e quindi questa sicurezza, questo falso senso di sicurezza mi ha permesso di mettermi alla scrivania e cominciare a scrivere la mia prima storia e io all'epoca andavo all'università e stavo ancora facendo gli esami, quindi non avevo molto tempo perché la mattina andavo a seguire le lezioni, il pomeriggio studiavo, avevo soltanto la sera per scrivere, però io tutte le sante sere, proprio come avevo imparato a fare per studiare, mi sedevo alla scrivania, mi prendevo 5 minuti per isolarmi un attimo con un po' di musica e cominciavo a scrivere e portavo anche il computer in giro quando stavo, non lo so, a casa di mia nonna perché avevo voglia di scrivere anche lì e pensavo a quello che avrei scritto la sera praticamente tutto il giorno, c'erano dei momenti in cui non capivo niente a lezione e ce n'erano purtroppo, la mente volava e cominciavo a pensare, proprio a scrivermi in testa i pezzi che avrei scritto la sera, disegnare le armi e i personaggi sopra i quaderni e ci ho messo più o meno un anno e mezzo a scrivere il primo libro che è Tutto le cronache del mondo emerso, anche se poi è stato diviso in tre parti e quindi il primo è Nial della terra del vento, che sono circa 1200 pagine e quando ho deciso di mandarlo alla casa editrice, in realtà non pensavo che sarebbe diventato un lavoro, l'avevo fatto come premio per l'impegno che avevo profuso all'interno di questa cosa, siccome appunto come vi dicevo era stata una cosa importante all'interno della mia vita, totalizzante in qualche modo, c'era un pezzettino di me che viveva sempre lì, mi sembrava giusto fare questo tentativo, quindi prendere il libro e provare a spedirlo alla casa editrice, però la casa editrice poi ha risposto, quindi mi ha risposto appunto nell'estate del 2003, l'ammondatore a cui avevo mandato il manoscritto dicendo che loro erano interessati alla pubblicazione che però era molto lungo, anche qui bisogna fare un salto indietro nel tempo, stiamo sempre parlando dell'inizio degli anni 2000, il fantasy era qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che è oggi, era un genere in Italia veramente minuscolo ed era praticato da pochissime persone e letto anche da pochissime persone, moltissime librerie, non avevano nemmeno lo scaffale fantasy. Per darvi un'idea era il 2004 o il 2005, non ricordo, ero a Luca Comics and Games e c'era Martin e Martin stava in una stanza che era meno della metà di questa e non c'era, cioè c'erano 30 persone a starlo a sentire, mi ricordo che io mi affacciai e feci così, lui rispose così, questo è stato il nostro contatto tra me e Martin, era proprio una roba completamente diversa e quindi per la casa editrice pubblicare il libro di un esordiente che aveva 23 anni, perché siamo 22 quando mi hanno contattata, però quando è uscito erano 23, italiana, di 1200 pagine, di un genere che in Italia era pressoché sconosciuto, era un enorme rischio, quindi loro mi chiesero di dividerlo in tre parti, in realtà il manoscritto era già diviso in tre parti, si trattava solo di dare un po' più di struttura e identità a ogni singolo volume, l'ho fatto e quindi è venuto fuori la mia prima opera, che è Nial della terra del vento, la cui protagonista è questa ragazza qui, che si chiama appunto Nial, ed è interessante che non si chiamava Nial in origine, perché qui già comincia ad esserci un primo momento di collisione tra i mondi. Allora io l'avevo chiamata Leida, Leida è l'italianizzazione del nome di una città olandese, Leiden, che è stata importante per la fisica dell'8-900, ad esempio Einstein ha insegnato per un semestre all'università di Leiden, la cosa divertente è che poi ci ha andato a lavorare anche mio marito qualche anno dopo, comunque Leida mi piaceva. Presento il manoscritto alla casa editrice, c'è la casa editrice, decidi pubblicarlo e dopo un po' di tempo che avevo firmato il contratto e avevo cominciato a lavorare sul testo, mi arriva una telefonata da parte di Sandroni D'Azzieri, che forse conoscerete, lui è uno scrittore di noir e thriller, lui è il mio mentore, grandissimo amico e il mio maestro, praticamente tutto quello che so di scrittura me l'ha insegnato lui, e lui mi dice guarda, lui all'epoca lavorava come consulente all'interno della Mondadori, guarda quando parliamo del tuo libro durante le riunioni di redazione, a nessuno rimane in testa sto Leida. Tra l'altro ci sono degli altri problemi, perché lei si chiama Leida e ha un maestro che all'epoca si chiamava Oda, quindi fa tantissimo guerre stellari e vorremmo evitare queste commistioni, devi cambiare il nome della protagonista. Ed è drammatico, perché quando tu passi un anno e mezzo a parlare di un personaggio, per te diventa una specie di figlio, il nome è qualcosa di più di una semplice etichetta, a che fare con l'identità del personaggio, era un nome che avevo scelto perché aveva un senso per me, per fortuna viene in mio aiuto sia Sandrone che Massimo Turchetta, che adesso è direttore editoriale di Rizzoli, all'epoca lavorava in Mondadori, ed è un'altra figura di confine perché lui è un filosofo, ma è un filosofo della scienza, infatti quando parlo con lui di astronomia lui capisce assolutamente tutto, io ogni volta rimango sconvolta, perché non è comune che una persona che abbia una laurea letteraria, poi ne sappia di scienza, e loro due capiscono il mio imbarazzo e mi dicono, vabbè ma tu stai, tu vuoi diventare astronoma, perché non fai qualcosa, non cerchi un nome collegato alle stelle, un nome di una stella. E là per la me sembrava un'idea un po' meh, perché le stelle che scopriamo oggi, gli oggetti astronomici che scopriamo oggi, hanno dei nomi decisamente non fantasy, cioè sono dei codici alfanumerici che indicano sostanzialmente l'epoca in cui l'oggetto è stato scoperto e da quale strumento, quindi non è che potevo chiamare la mia protagonista X 2007-11. Allora andiamo a vedere i cataloghi delle stelle degli antichi, gli antichi hanno guardato il cielo prima di noi e ovviamente con la mia formazione classica del liceo vado a guardarmi i cataloghi greci e non andavano bene perché l'italiano ha fortissime radici anche all'interno del greco, quindi i nomi greci non ci appaiono molto, diciamo, alieni. Allora mi vado a vedere i nomi arabi, che invece l'arabo è una lingua molto lontana dall'italiano e trovo questa roba qui, c'è la costellazione della lepre, all'interno della quale c'è una stella che si chiama Nihal, mi piace subito il suono e quindi decido di fare così. La cosa divertente è che qualche tempo dopo, non mi ricordo in che contesto, mi capitò di incontrare una persona di origine araba che mi disse che Nihal significa cammelli che si abbeverano. Perché? Allora la posizione delle stelle in cielo si chiama asterismo. Noi in quell'asterismo lì vediamo una lepre, gli arabi ci vedevano, oddio, quattro cammelli che stavano intorno a una pozza a bere acqua e quindi questa cosa, un po' mi ha inquietato, avevo anche scoperto che in Turchia ho un nome da uomo, Nihal, quindi mi si è un po' spoeticizzato, però il libro oramai era già stato pubblicato da parecchio, avevo cominciato la mia carriera, me ne sono fatto una ragione, continua a piacermi come no. E quindi qui c'è questo primo piccolissimo contatto che in realtà, scusate, riesco a andare indietro? No, vabbè, che in realtà era presente all'interno anche del manoscritto originale, perché a un certo punto Nihal, non più Leida, insieme a Sennar, che era l'altro personaggio con cui lei andava in giro, vanno a finire all'interno di una città distrutta e mentre camminano tra le rovine di questa città trovano le rovine di un telescopio. Quindi in qualche modo volevo omaggiare anche la mia altra vita. In tutto questo io quando ho pubblicato il primo libro non è che pensavo che ero diventata scrittrice, cioè che quella era la mia carriera. Io all'epoca stavo facendo la tesi di laurea, mi volevo continuare a laureare e volevo continuare a fare la scienziata. Io sono una persona con un'autostima non proprio elevatissima, chiamola così, anche se ci sto lavorando, e tendo quindi a tenermi sempre super bassa. Quindi quando ho visto che il libro stava in libreria ho detto beh, hai ottenuto questo risultato, probabilmente se lo leggerà nessuno, probabilmente è l'unica cosa che hai pubblicato, però dai, è un risultato che ci sta in libreria. Quindi io non è che lì ho deciso, adesso mollo l'astrofisica e mi metto a fare la scrittrice, continuavo a pensare di voler fare la scienziata. In quel periodo vi dicevo stavo facendo la tesi di dottorato, sì ciao di laurea, però qualche tempo prima avevo conosciuto il professore col quale poi avrei fatto questa tesi, era qualche mese prima perché avevo cominciato a fare gli esami di indirizzo, lui era il professore di laboratorio di astronomia, ed era anche il direttore di questo posto qui che è l'osservatorio astronomico di Roma, che nonostante il nome non sta a Roma, sta in una cittadina che si trova a sud di Roma che si chiama Monteporzio. Se mai vi capitasse di andare in quelle zone lì è un posto interessante a visitare perché lì c'è un museo che si chiama Astrolab. Questa è una foto di alcune cose che stanno dentro il museo, che è appunto dedicato all'astronomia, è una specie di viaggio diciamo nell'universo dal più vicino al più lontano, quindi si parte con i pianeti eccetera eccetera, è molto didattico ed è molto operativo, nel senso che le persone che lo visitano sono incoraggiate a toccare, vedere tutte le cose, sono rappresentate tramite degli exhibit che ti spiegano i concetti fisici. E questo museo, che è ancora aperto, sì, è ancora gestito da un gruppo che si chiama Diva, che è il gruppo di divulgazione sostanzialmente dell'Osservatorio Astronomico di Roma, che era nato anche su impulso del direttore ed era strutturato così. C'erano due ricercatori che diciamo erano i capi, ma tutte le altre persone che ci lavoravano erano tutti quanti studenti, o di laurea o di dottorato, perché il mio professore, il professor Roberto Duonanno, è una persona che ha sempre creduto molto, diciamo, nella possibilità di allevare nuove generazioni di divulgatori e di ricercatori. E quindi disse a me e a mio marito se ci interessava di unirci a questo gruppo. Io pensai subito che fosse una cosa molto bella, tra l'altro ci pagavano, poco ma ci pagavano, e quindi decisi di partecipare. E quindi cominciai a fare anche divulgazione che mi piacque da subito moltissimo. Non vi so spiegare bene perché, però forse perché è sempre questa idea del puzzle, perché per raccontare le cose della scienza alle persone devi capirle prima molto bene tu, in maniera tale da poter estrapolare il concetto e poi in qualche modo spiegarlo agli altri, semplificando, ma senza perdere di rigore e di correttezza. E questa cosa mi piaceva molto, però era molto bello il contatto col pubblico, molto spesso erano delle scuole, addirittura una volta a bambini dell'asilo, lì, confesso, è stata un po' drammatica, non era facilissima, perché questi nemmeno leggevano, c'erano delle cose da leggere. Oppure venivano la sera anche invece delle persone grandi, che magari erano molto appassionate, quindi già ne sapevano di loro, e quindi ti chiedevano dettagli molto approfonditi, dei vari argomenti, insomma, mi piacque molto. Quindi avevo conosciuto anche quest'altra cosa, che non è che mi serviva a niente, lo facevo solo perché mi piaceva. Ah, ecco, cosa ho fatto io nella scienza? Allora, ho fatto una tesi, quella in alto, quella in alto a sinistra, la mia tesi di laurea è stata sulle galassie enane, che sono delle galassie piccoline. Io tutta la mia carriera come astrofisica è stata intorno all'evoluzione stellare, quindi io sono una fisica stellare, studio come si evolvono le stelle, perché le stelle, come praticamente tutto all'interno dell'universo, sulla Terra, eccetera, eccetera, hanno un arco evolutivo, quindi nascono e in qualche modo, tra virgolette, muoiono. Quindi prima la mia tesi è stata su quello, poi ho avuto un momento anche qui, a un certo punto, subito dopo la tesi di laurea, momento di crisi, perché è successa la cosa seguente. Mi sono ritrovata seduta 15 giorni dopo, cioè un mesetto dopo con la mia laurea, la stessa scrivania dove stavo quando facevo la tesi, a lavorare sulle stesse cose, perché un lavoro di tesi, almeno ai miei tempi penso sia ancora così, è un pezzettino di un lavoro più grande. Ti fermi quando il tuo professore ti dice ok, hai trovato una cosa e la tua tesi verterà su quell'argomento lì. E poi però quel lavoro può continuare e se tu hai come ambizione quello di fare la ricercatrice, devi continuare a fare quel lavoro. Però in qualche modo questa cosa mi bloccò. Cioè il fatto che la laurea fisicamente non avesse cambiato niente e intorno a me ci fossero delle altre persone che invece cominciavano magari ad andare a vivere da sole, cominciavano a farsi una famiglia, mi sconvolse e quindi decisi di provare ad andare nell'industria e di non fare più la ricerca. Uno diceva ma come volevi fare la scienziata fin da bambina? In quel momento sentivo che non potevo andare avanti in quel modo e quindi ho cominciato a cercare un po' l'industria e trovai questo stage retribuito a Monaco di Baviera per una azienda che si occupava di immagini della Terra da satellite perché si possono fare tantissime cose con queste qui. Nello specifico il progetto in cui ero coinvolta io era un progetto di misurazione dello stato di salute delle foreste. Quindi tramite immagini satellitari si poteva vedere come stavano le foreste, quindi questo per la tutela ambientale eccetera eccetera. E ho mollato la ricerca per sei mesi, forse anche un po' di più. Mi sono fatta questa esperienza all'estero che è stata estremamente buona per me perché quando esci cominci a vivere da solo. Tra l'altro venne con me anche mio marito che stava facendo il dottorato, quindi fu anche un'esperienza di convivenza. Tutte queste cose mi aiutarono a apprendere meglio l'inglese che se vi ricordate ho dovuto imparare da sola perché a scuola non l'avevo fatto. Quindi fu sicuramente un'esperienza fruttuosa, però torno in Italia e mi richiama il mio professore e fa guarda se tu sei ancora interessata a fare la ricercatrice in questo momento si sta lavorando su un satellite che verrà lanciato nel 2013, siamo più o meno nel 2005 sì, anzi nel 2006 perché ero già tornata, verrà lanciato nel 2013, stiamo cercando di lavorare al software, che è un software di analisi delle immagini astronomiche, puoi essere interessata e ci sono andata. Alla fine la ricerca che avevo buttato dalla porta è rientrata alla finestra, quindi ho cominciato a fare quello che in scienza si chiama il tecnologo, cioè quello che si occupa della parte tecnologica della scienza. E questo satellite adesso è stato lanciato nel 2013, si chiama Gaia e sta facendo una mappa di tutta quanta la nostra galassia ed è un satellite molto molto importante perché può sembrare una cosa stupida fare la mappa e la galassia ma ti serve per tantissime altre cose dell'astronomia. Praticamente tutta l'astronomia di qualsiasi genere, cosmologia, bla bla bla, ha bisogno delle mappe stellari. E ho lavorato per un annetto su questa cosa, dopo io ho deciso di fare il dottorato perché nel frattempo ho pensato, vabbè ma proviamo a fare la ricercatrice aerea. E quindi poi mi sono presa anche il dottorato di ricerca e la mia tesi di dottorato di ricerca è stata anche pubblicata, sempre sull'evoluzione stellare. E mentre facevo tutte queste cose, avevo tutti questi dubbi, faccio la ricercatrice, vado nell'industria e faccio qualcos'altro, continuavo anche a scrivere. Io qui ho messo un pochetto di libri che ho prodotto nella mia carriera, non sono tutti, però insomma è una cosa che ha continuato ad andare avanti mentre io facevo la ricercatrice ed era abbastanza complicato fare tutto ovviamente perché per fare la ricercatrice dovevo stare più o meno dalle 9 alle 6 in osservatorio e quindi poi scrivevo sempre e solo la sera, presentazioni sempre e solo nel weekend, tra l'altro facendo delle cose assurde. Una volta avevo finito di lavorare, sono andata a prendere un treno notturno e sono arrivata alle 6 abbassando del grappa per fare una presentazione alle 10, cose. Però insomma per riuscire a tenere insieme le due cose bisogna fare un po' di sacrifici. Veniamo alla famosa domanda, ma cosa c'entra l'astrofisica o la scrittura? Qualcosa già ve l'ho detto, no? C'è stato quel primo piccolo punto di contatto che era sia nella descrizione del telescopio che questi trovano mentre girano per la città distrutta, sia con i nomi delle protagoniste. Questa cosa dei nomi delle protagoniste è diventata un po' una specie di vizietto e è un po' diventato un segno di riconoscimento delle mie cose perché tranne per le ultime in cui è un po' cambiato, quasi sempre sono presenti all'interno dei miei libri per i nomi dei personaggi nomi di stelle. Quindi ad esempio Dube è una stella dell'orsa maggiore, Adara è una stella del cane maggiore, tra l'altro il cane maggiore era una costellazione nella quale era stato trovato un oggetto che sembrava essere un'altra galassia nana ma c'era tutto un dibattitone intorno a questa cosa quindi mi era rimasta impressa il cane maggiore per questa ragione. Però evidentemente sentivo in qualche modo in tutto ciò mentre cercavo di tenere insieme la mia vita scientifica e la mia vita letteraria di metterle insieme in qualche modo. E quindi arrivo all'aprile 2007 quando, sempre un po' sul consiglio di Sandrone, decido di provare a scrivere qualcosa per un pubblico un po' più giovane. I miei libri fino a quel momento e la stragrande maggioranza dei libri che scrivo sono cosiddetti young adult, cioè vanno bene per gli adolescenti, cioè il target in cui lo mette la casa editrice, poi chi lo legge è un altro par di maniche però ovviamente le case editrici incasellano i libri per una facilità di vendita, è quello degli adolescenti, post-adolescenti, diciamo 13-23 anni. Quindi provai a scrivere una cosa per un pubblico un pochino più giovane che è la ragazza drago in cui, come per la prima volta, ho preso realmente ispirazione dalla scienza. Perché nella mitologia del mondo della ragazza drago mi sono inventata e 30.000 anni fa c'erano 5 draghi guardiani con questi nomi qui che non vi sorprenderà sapere che sono nomi delle stelle e della costruzione del drago. E questi qui stavano in questa città che si chiamava Draconia, poi è successo un pasticcio perché è arrivato questo drago malvagio, questa Viberna, Nindogre che ha distrutto l'albero del mondo, c'è una serie di cose che adesso non vi sto a raccontare. Comunque la cosa che ci interessa è che per inventarmi questa mitologia ho preso spunto da un argomento, da una cosa che succede realmente nell'universo, cioè la cosiddetta precessione degli equinozi, perché circa 3.700 anni fa, no? Anche un po' di più, no? 3.700 avanti Cristo, se non sbaglio, Tuban, che è una delle stelle della costellazione del drago, indicava la stella polare. Questa cosa mi colpiva, perché succede? Dopo ve lo racconto in brevissimo, però la lezione di astronomia mi sembra veramente troppo. Però, per una cosa adesso vi vado a raccontare, indicava la stella polare, Tuban è questa stella che vedete qui, l'immagine ha falsi colori, questa è una cosa che forse non tutti sanno, le immagini astronomiche, quelle che vengono usate per fare ricerca sono in bianco e nero. L'informazione di colore, quindi ognuna è per, diciamo, uno specifico colore, l'informazione di colore che può servire si ottiene avendo più immagini in bande diverse, quindi diciamo in colori diversi. Quelle bellissime, tutte colorate, che in genere vengono usate per la divulgazione, vengono rilasciate per il pubblico, sono fatte mettendo una sopra l'altra più immagini colorate e scegliendo un codice di colore. Quindi in realtà i colori che vedete in quelle immagini lì sono sempre un po' falsi colori, non è proprio quelli che si vedono con l'occhio, anche perché quando tu guardi con l'occhio anche al telescopio il cielo, i fotoni che ti arrivano sono troppo pochi e il colore non si vede. E questa qui poi tra l'altro è giallina perché l'astronomo che l'ha usata ha preferito visualizzarla in toni di giallo, perché si può scegliere o li fa in toni di grigio, io anche li facevo in toni di arancione all'epoca. Però, cioè, 2700 anni prima di Cristo, è un po' prestino per immaginare che ci possa essere una città dei draghi di cui noi abbiamo perso memoria, perché quello è il periodo storico che conosciamo. C'erano, non lo so, gli egizi, eccetera, eccetera. Quindi non potevo mettere quest'idea della città perduta in un'epoca storica che noi conoscevamo. E la cosa interessante è che il cambiamento della stella che indica il polo nord celeste è periodico, c'è un periodo di circa 26.000 anni. Quindi se io andavo a 30.000 anni prima, era un'epoca abbastanza remota, della quale noi conosciamo qualcosa ma non tantissimo, e quindi mi sembrava un buon posto dove andare ad ambientare la mia storia. E vi spiego rapidamente che succede. In sostanza la Terra gira intorno a un'asse, un'asse di rotazione. Questa asse di rotazione però non è perpendicolare al piano sul quale la Terra gira intorno al Sole, è un po' inclinato. E oltre a essere inclinato tende anche a girare, fa dei movimenti rotatori appunto con un periodo di circa 26.400 anni. La definizione di polo nord celeste è il punto in cui la parte nord dell'asse di rotazione terrestre finisce sul cielo e quindi ovviamente se l'asse fa questo movimento cambia il punto che indica in cielo e questa è la ragione per cui a seconda del periodo l'epoca che si va a considerare nella storia della Terra, la stella polare non è sempre indicatrice del polo nord, ma infatti Tuban tra altri 20.000 e passa anni diventerà di nuovo la stella che indica il polo nord. Però, quindi questa è la... qui c'è proprio una cosa, un concetto astrofisico, no? E però poi a un certo punto ho voluto spingere questa cosa ancora più avanti perché un'altra stella della costellazione del drago si chiama Kuma e la cosa interessante è che è un sistema doppio, cioè sono due stelle che si girano intorno. Questa è l'animazione Cina che lo fa vedere. E allora, visto che ogni libro era dedicato a uno di questi draghi guardiani che nel momento in cui erano stati, erano morti, avevano trasferito il proprio spirito negli esseri umani, quindi ognuno di cui ho dei libri è dedicato a uno di questi ragazzi che ospitava dentro di sé lo spirito di un drago, questi ragazzi sono chiamati draconiani, quando si è trattato di parlare dello spirito di Kuma, visto che Kuma è una stella doppia, quella è un'immagine reale di Kuma, ho pensato che era carino immaginare che lo spirito di questo drago non fosse dentro un solo ragazzo ma è una coppia di gemelli. Quindi qui ancora una volta una tematica di astronomia mi serviva come fonte di ispirazione per una storia. Questa cosa va avanti abbastanza a lungo nella mia carriera ed è sostanzialmente un percorso di avvicinamento sempre maggiore. Quindi in ogni cosa che ho scritto, pian piano, la presenza della scienza è stata sempre più forte, perché evidentemente sono due parti della mia formazione che mi appartengono profondamente. e poi come vi dicevo io ho questa fissazione che la scienza e le lettere non sono così separate, ma fanno parte di un unicum che è la conoscenza che può essere ovviamente ottenuta con strumenti differenti. Questa è l'ultima cosa in ambito narrativo che ho scritto ed è una serie che si chiama Le guerre del multiverso. Per ora sono usciti due libri e qui la scienza c'entra veramente pesantemente anche perché mi ero un po' stancata del fantasy classico. Avevo l'impressione di aver detto tutto quello che potevo nell'ambito dei mondi inventati di stampo high fantasy, quindi sword and sorcery, maghi e queste robe qui. E già da un po' avevo cominciato a mescolare le carte e a cercare di infilarci anche altri generi. E a un certo punto quindi ho pensato di tentarmi con la fantascienza, scusate di provarmi con la fantascienza perché era una cosa che avevo in mente da un po' di tempo. Ed è basata sul multiverso. E noi il multiverso siamo abituati a immaginarlo come un concetto prettamente narrativo, anche perché la Marvel l'ha reso diciamo famoso presso il grande pubblico. Invece è una teoria scientifica. Teoria scientifica intesa non come la teoria della gravità, la teoria della relatività che sono delle teorie, quindi un sistema che spiega come funzionano le cose, che però ha delle prove molto solide. Quindi noi sappiamo che la relatività spiega bene come funziona la forza di gravità perché ci sono tante prove, tante predizioni della teoria della relatività che sono state poi confermate. Ad esempio nei cellulari il GPS, quello che usiamo molti giorni per andare in giro, deve tener conto della teoria della relatività generale perché i satelliti che stabiliscono la nostra posizione viaggiano a grande velocità e la grande velocità secondo la teoria della relatività significa rallentamento del tempo. Se noi non mettessimo questa correzione nel software che tiene presente di questa differenza dei tempi a terra su questi satelliti, ogni giorno si accumulerebbe un errore sulla posizione di qualche centinaio di metri, quindi nemmeno poco. Invece il multiverso non è una teoria in questo senso, bensì è una speculazione scientifica, cioè l'idea che possano esistere numerosi altri universi, però al momento non abbiamo alcun modo per cercare di dimostrare se effettivamente è così e la teoria è vera. Quindi è una teoria nel senso che è veramente speculativa. E viene fuori da una serie, anche qui cerco di essere super breve, però mi parte ogni tanto l'astrofisica che è in me. Sono due le ragioni per cui viene fuori il multiverso. Uno è una ragione cosmologica e l'altro invece è una conseguenza della meccanica quantistica. La ragione cosmologica è che noi viviamo in un universo in cui certe costanti hanno determinati valori. Se questi valori fossero anche di pochissimo diversi, noi non esisteremmo. La vita non potrebbe esistere, l'universo sarebbe un posto completamente diverso. Ma proprio deve essere super preciso, proprio come se qualcuno avesse finemente regolato, fine tuning, queste costanti in maniera tale da permetterci di essere qui. Questo è un pensiero estremamente fastidioso per la scienza, perché la scienza, se ci pensate, ha sempre cercato in qualche modo di toglierci dal centro del quadro. Quindi non è vero che la Terra è al centro dell'universo e il Sole le gira intorno. È stato dimostrato che la Terra è al centro dell'universo. Il Sole è solo una di moltissime altre stelle che si trovano all'interno della nostra galassia. La nostra galassia non è la più importante dell'universo, perché ce ne sono centinaia di miliardi di altre. L'idea che abbiamo un universo costruito su misura per noi, agli scienziati non piace tanto. Quindi una soluzione è quella di immaginare che esistono infiniti altri universi in cui queste costanti sono diverse e quindi noi siamo qui solo perché siamo finiti in quello fortunato. Però vi dicevo, tra l'altro secondo la teoria probabilmente questi universi non comunicano, quindi non c'è proprio nessun modo per capire se questa teoria sia vera o meno. E poi c'è quello invece della meccanica quantistica che è quello che ha deciso di seguire la Marvel. Allora qui è un po' più complicato, però cerco anche qui di farvela super mega rapida. Quando noi andiamo a misurare lo stato di una particella elementare, le particelle elementari sono i pezzettini più piccoli di materia. Quando andiamo a cercare di capire in che stato si trova, quali sono le sue caratteristiche, influenziamo in realtà il suo stato con l'atto della misura stessa. Cioè, fino a quando noi non facciamo la misura, in realtà quella particella non sta in uno stato specifico, sta in una nube di probabilità di stati. Quando noi andiamo a fare la misura, Puffet la costringiamo a avere certi valori per le sue caratteristiche. E quindi questo è uno dei vari aspetti paradossali della meccanica quantistica che è un'altra teoria estremamente ben dimostrata. E quindi qual è l'idea che ci sta dietro? Ogni volta che io faccio una misura, genero degli altri universi, in cui il valore di quella misura è differente. Perché abbiamo detto che la particella sta, si dice, in una sovrapposizione di stati, c'ha tanti valori contemporaneamente. Io la misura la costringo a assumerne uno solo, ma magari quella misura fa sì che si genere un altro universo in cui i valori misurati sono differenti. E questa è proprio la spiegazione che è stata poi presa dalla Marvel per il suo multiverso. Perché se ci pensate, questa idea di multiverso è lo sliding doors. Cioè quello che succede è che ogni volta che io prendo una decisione si genera da un'altra parte di un altro universo un'altra me che sta facendo un'altra cosa. Un'amica ad esempio non sta seduta qua, sta da un'altra parte. Un'amica sta in piedi a parlare invece di seduta e così via. E questo è proprio il what if che poi ha preso, ad esempio, la Marvel nella sua interpretazione. Però, dice, questo è praticamente la scienza che ha influito sulla mia parte narrativa. Però in realtà è successo anche l'opposto. Anche perché non vi ho raccontato un altro pezzettino. Allora, avete visto che io ho fatto il classico, ho studiato fisica, mi sono laureata, ho avuto la crisi e ho deciso di non fare più la ricercatrice. Dopo sei mesi e un anno ci ho ripensato e nel 2014, dopo aver fatto per circa dieci anni la ricercatrice, ci ho ripensato un'altra volta. Scusate, prendo un attimo un sorso d'acqua. Quello che è successo è che la mia vita stava diventando molto complicata. Perché facevo l'astrofisica, facevo la scrittrice e nel frattempo avevo avuto una figlia. Fino a quando ero piccola, abbastanza tranquillo, lavoravo da casa, potevo lavorare all'ora che mi pareva, cioè se lei, che ne so, dormiva il giorno e si svegliava ai notti, io potevo tranquillamente lavorare di notte a fare ricerca, poi il giorno dopo mandavo i risultati al gruppo di ricerca e andava bene così. Quando lei ha cominciato a diventare un po' più grande, un po' più strutturata nei suoi orari, cominciava a diventare molto complicata la cosa. Contemporaneamente mi ero resa conto che la divulgazione mi piaceva veramente tanto. Avevo in qualche modo smesso la mia collaborazione con il gruppo DIVA, ma avevo continuato a fare divulgazione, quindi mi capitava di partecipare a eventi divulgativi, serate osservative, parlare in generale della scienza in eventi di vario genere, perché si era sparsa la voce che io ero anche astrofisica oltre che scrittrice, quindi mi chiamavano in giro. E quindi nel 2014 ho sentito di dover fare una scelta. Avevo preso da non moltissimo il dottorato, quindi in qualche modo avevo finito tutta quanta la formazione e ho pensato di smettere di fare la ricercatrice e invece di fare solo divulgazione, perché tutto sommato cominciavo a capire che era la parte che mi interessava di più della scienza, più di farla proprio fisicamente. Sempre credo per questa mia tendenza narrativa che è una cosa che mi ha sempre caratterizzata. E quindi ho deciso anche di cominciare a scrivere dei libri divulgativi, facendo quindi l'altro percorso, vedendo come la mia parte narrativa poteva influire sulla mia parte più scientifica. E finora ne ho scritti tre, che sono questi qui che vedete. Il primo è dove va a finire il cielo e lì mi sono accorta appunto di questa cosa, perché io fino a quel momento avevo fatto divulgazione soltanto oralmente, quindi partecipavo agli eventi, spiegavo le cose, lavoravano nel museo, anche se avevo smesso. Scrivere è una cosa molto diversa, perché quando parli ad esempio tu vedi le persone, capisci se ti stanno seguendo o non ti stanno seguendo, ti capiscono o meno, ti devo spiegare meglio questo o meglio quello. Quando c'hai un libro o no, cioè devi essere capace di spiegare tu, devi essere autoconsistente, perché non è che quello ti può telefonare. Scusa, a pagina 17 non ho capito la cosa totta. E anche trovare quella che, lo saprete, è la voce. In sostanza il tuo modo particolare di raccontare le cose che ti rende distinguibile da tutti quanti gli altri scrittori. Io spero di avercela nell'ambito narrativo, la dovevo trovare nell'ambito divulgativo. E mi sono accorta che la risposta era sempre la narrazione, perché io continuavo a vedere il mondo, a raccontarlo tramite le storie. E quindi sentivo che il modo migliore per me per fare divulgazione era tramite le storie. Quindi la storia di come determinate scoperte sono state fatte. La storia dei ricercatori che quelle scoperte hanno fatto e contemporaneamente anche la mia storia come studentessa, ricercatrice e poi dopo divulgatrice. E questa cosa ha attraversato sostanzialmente tutta quanta la mia divulgazione. E adesso, queste sono un po' di immagini e di cose che ho fatto nella mia vita in ambito divulgativo. Sono più che altro vari eventi divulgativi. Quello in basso a destra è molto recente. È una cosa molto bella. Io, per un altro lavoro che adesso vedrete, ho conosciuto una filosofa che si chiama Lucrezia Ercoli, che organizza, tra le altre cose, oltre ad essere docente e fare tante cose, organizza questo festival di filosofia molto bello che si chiama Pop Sofia. In quell'ambito abbiamo presentato una volta uno spettacolo teatrale. Eravamo inizialmente io e lei, che parlavamo di fantastico. A noi si è poi unito un biologo divulgatore, Michele Bellone, che è anche direttore editoriale della casa editrice Codice, che pubblica libri divulgativi molto molto belli. E abbiamo cominciato a portare in giro questo spettacolo. È uno spettacolo che parla del fantasy da un punto di vista filosofico, letterario e scientifico. E questo è successo pochi giorni fa, l'abbiamo presentato a Padova. Però ho fatto pure altra roba. Ad esempio, ho cominciato a fare fumetti. E ho iniziato a fare fumetti grazie alla scienza. Anche qua. Perché? Allora, la prima volta, la primissima cosa che ho fatto è quella che vedete sulla sinistra. È un numero di Comics and Science, che è un progetto del CNR di divulgazione scientifica tramite i fumetti. E tra le persone che ci lavorano c'è Andrea Plazzi, che forse conoscerete, è un editor di fumetti molto importante ed è anche un matematico. E per questa collana di Comics and Science hanno lavorato fumettisti molto importanti. Me ne dico due, sono Leo Ortolani e Zero Calcare, hanno fatto due numeri. E Andrea Plazzi mi chiese di fare un fumetto che parlasse di astronomia. E quindi ho fatto questa cosa in cui rileggo in chiave mitologica e supereroistica l'evoluzione stellare. Che mi divertiva molto, perché in genere l'evoluzione stellare è una roba non molto conosciuta, che non sembra molto interessante per il grande pubblico, quindi mi piaceva l'idea di farla così. Ed è stata la prima volta che mi è capitato di scrivere il soggetto di un fumetto. Però poi nel frattempo, su Twitter, io ogni volta che ci penso non ci posso credere che uno trova anche lavoro sui social, per un post che avevo fatto in cui avevo messo una mia versione paperizzata, perché avevo trovato un programmino in quel tempo della Disney che ti faceva divenire in versione paperinica, veni contattata da Francesco Artibani. Francesco Artibani è un importantissimo sceneggiatore di fumetti e soprattutto su fumetti Disney. E lui mi disse, guardo, ho anche letto che tu sei appassionata di Monster Allergy, perché l'avevo cominciato a leggere con mia figlia, vorremmo, io e Katia Centomo, che è la moglie che insieme a lui ha creato Monster Allergy, scrivessi con noi un soggetto per un numero di Monster Allergy. E quindi questa è stata la seconda cosa che ho fatto. Alla fine sono diventati due numeri, perché le storie fantasy sono almeno delle bilogie, almeno due libri, se no non va bene. E contemporaneamente Francesco mi ha detto, ma facciamo anche una collaborazione con Topolino. Visto che tu hai fatto Comics and Science, Comics and Science ha anche un progetto di divulgazione su Topolino. Quindi inventiamoci una storia di divulgazione scientifica su Topolino, e quindi io mi sono inventata questa roba qui di Paperon de Paperoni e deve andare su un esopianeta, cioè un pianeta che non gira intorno al Sole ma intorno ad un'altra stella, per andare a prendere i diamanti, perché esistono degli esopianeti che forse sono dei diamanti giganteschi, quindi lui decide di andare lì a prendersi questi diamanti. E quindi la scienza c'entra pure qui. E però ci ho preso gusto con questa storia di fare i fumetti, e quindi dopo la storia di divulgazione da Topolino hanno detto a me e a Francesco, però a questo punto ci fate pure la storia fantasy. E quindi nel 2021, sì, a settembre, su Topolino in tre puntate è uscita una storia fantastica che si chiama Dactopia, che si trova anche in volume. A maggio di quest'anno Dactopia ha avuto un'altra storiellina che è uscita su Topolino, che serviva da ponte per la nuova storia in quattro puntate questa volta, che sta per uscire, per chi di voi fosse per qualche ragione da dopo domani a Lucca, a Lucca è in anteprima, e sono quattro episodi. E abbiamo in mente anche altre cose di sceneggiatura di Topolino. E la cosa interessante è che Dactopia è stato in realtà il mio primo esperimento con la sceneggiatura a fumetti. Io fino a quel momento avevo fatto solo narrativa e divulgazione, e quindi saggistica. Non mi era mai capitato di fare sceneggiatura, che è un lavoro profondamente diverso da quello della narrativa, però io per fortuna l'ho fatto insieme a Francesco, che come vi dicevo è veramente uno strapeso massimo di queste cose, e quindi mi ha veramente aiutato moltissimo e mi ha fatto capire appunto come si fa sceneggiatura ai fumetti. E anche questa cosa che vi dicevo all'inizio, cioè del fatto che Topolino ha un suo linguaggio. Innanzitutto quando scrivi Topolino devi essere consapevole che stai intervenendo su una tradizione di più di 90 anni, perché è un'opera che... sono personaggi che sono stati scritti da una molteplicità di autori incredibili. Ognuno che ha dato ovviamente il suo contributo della sua lettura, però entra una cornice che più o meno è fissa, perché i personaggi Disney quelli sono, e devi essere fedele alle loro caratteristiche. Quindi prima c'è questa onore, perché ti metti all'interno di una tradizione straordinaria, ma anche complicazione ulteriore, perché appunto devi essere fedele a questo canone. E poi appunto c'è la questione linguistica, il linguaggio di Topolino è sempre un linguaggio particolare, che deve essere sicuramente molto comprensibile, ma contemporaneamente anche insegnare qualcosa. Poi è una scrittura molto più visiva, perché la maggior parte delle cose le devi capire tramite le vignette, quindi quando c'è un'azione devi capire bene come rappresentarlo all'interno del fumetto, quindi della tavola e della vignetta, quindi insomma è abbastanza complicato. E poi mi è capito di fare un'altra cosa veramente buffa, questa non l'avrei mai immaginato, che è una cosa che mi è capitata così. Nel 2018 mi è arrivata una mail dalla Rai di uno che io non conoscevo, che mi diceva guardi stiamo cercando un conduttore per una trasmissione dei Rai 5 e vorremmo sapere se potrebbe essere interessata. Io ho mai fatto niente del genere in vita mia, però io sono una persona molto ansiosa e quindi, anche su questo ci sto lavorando però, e quindi se io stessi sempre all'interno della mia comfort zone, cioè delle cose che ritengo di saper fare, non farei niente. Per dire, io ho una grandissima paura di prendere l'aereo, però lo prendo uguale, non è mai successo una volta che non ho preso un aereo perché avevo paura, perché so che questa roba mi limiterebbe. Ci sono tanti posti che voglio vedere, poi quando l'ho fatto mi sono capiata delle esperienze meravigliose quando sono andata in certi posti e quindi mi costringo a fare quello. Quando mi è arrivata questa proposta, cioè normalmente uno direbbe io non l'ho mai fatto in vita mia, non lo posso fare. E invece ho detto proviamo, se non gli piaccio non me lo fanno fare, intanto ho fatto un'esperienza nuova, invece per cinque anni alla fine gli sono piaciuta e quindi mi hanno fatto fare questa cosa che peraltro aveva a che fare anche con la scienza, perché fedele diciamo un po' alla mia formazione, io iniziavo ogni puntata con un brevissimo testo che scrivevo che riguardava argomenti scientifici connessi agli argomenti che poi avremmo trattato nella puntata. Questo programma si chiamava Terza Pagina, adesso non c'è più, ed era diciamo un talk culturale, quindi noi ogni settimana sceglievamo un tema di qualche genere, i temi più sbariati, abbiamo parlato anche di manga, abbiamo parlato di emoji, così come abbiamo parlato di fotografia, di cinema, una volta delle polemiche sul premio Nobel, quindi sceglievamo un argomento, c'era una serie di persone con cui lo discutevamo, un cast che poi si è arricchito nel corso delle stagioni e io cominciavo appunto con queste storielle di scienza che avevano in qualche modo a che fare con il tema di puntata ed era divertente perché a volte trovare il collegamento era veramente veramente complicato, una volta con Pasolini attaccai parlando di petrolio per il libro di Pasolini, non ricordo come la declinai sta roba del petrolio, però insomma ero riuscita a trovare questo collegamento. Ah ok, vi ricordate che vi avevo detto che io ero entrata in contatto con la traduzione quando facevo il liceo classico perché traducevo latino e greco e mi divertivo e allora mi sono resa conto quando ho cominciato a imparare l'inglese che tradurre mi piaceva in generale, non soltanto il latino e il greco, mi piaceva molto tradurre in inglese ad esempio, quindi mi capitava qualche volta di partecipare alle traduzioni delle pagine di Wikipedia, qualcuno mi aveva chiesto di tradurgli un sito e cose del genere e quindi era una mia ambizione, l'avevo detto in Mondadori a un certo punto si era presentata un'occasione che poi però non ha concretizzato, mi avevano chiesto di tradurre la novelization di Guerre Stellari illustrata da Di Terlizzi, Di Terlizzi è un famoso illustratore e quindi c'era sto libro con i disegni e c'erano dei brevi testi che andavano tradotti, poi io lo feci, cioè senza manco il contratto lo cominciai a fare perché avevo voglia di farlo, però poi non ha concretizzato come fin da nessuna parte, però durante la pandemia, siccome io non l'ho presa benissimo la pandemia è stato un momento abbastanza duro per me, nonostante a me non sia successo niente, né a me e alla mia famiglia per fortuna, ma era proprio la situazione che trovavo estremamente difficile, mi misi a tradurre i libri, non ancora tradotti in italiano, del mio autore fantasy preferito, Jonathan Stroud. Lui ha scritto questa serie da cui hanno tratto anche una serie televisiva si chiama Lockwood & Co, purtroppo pare non ci sarà una seconda stagione, in Italia sono stati tradotti in italiano solo due libri, c'erano altri tre e io per il mio piacere mi sono messa a tradurli. Finita la pandemia, come avevo pensato per il libro quando lo mandai alla Mondadori, mi dissi, proviamo a vedere se a qualcuno gliene frega qualcosa, lo mandai alla Salani, che era la casa editrice che lo pubblicava all'epoca, che però non mi rispose, mi disse sì 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 no figo, adesso ne parliamo e ti facciamo sapere. Non sono mai più palesati. Lo mandai alla mia editor in Mondadori, quella con cui facevo le cose dei ragazzi, tipo la ragazza Drago, lei anche grande appassionata di Jonathan Stroud, se lo lesse mi disse, guarda mi piace molto come l'hai tradotto, noi abbiamo appena comprato il nuovo libro e quindi ti vorremmo chiedere di tradurlo. E quindi io ho detto di sì e l'ho fatto e quindi ho tradotto questi due libri. L'altro, La città di cenere, esce domani. Vabbè ma tutta sta pippa che vi ho raccontato, cioè perché l'ho fatto? C'è una morale in tutta quanta questa roba? Allora, vi ho voluto raccontare tutta quanta questa storia che in qualche modo c'ha anche, se volete, dei fallimenti in mezzo, no? Il momento in cui... Io ho studiato tutta la vita per fare l'astrofisica e adesso non la faccio più l'astrofisica. Avevo scelto di fare il liceo classico ma sarebbe stato meglio se facessi il liceo scientifico. La trasmissione terza pagina è stata cancellata, quindi io non la faccio più, non esiste più. È stato un percorso complesso in cui mi sono capitate le opportunità e ho fatto delle scelte che in certi momenti probabilmente con un occhio esterno potevano sembrare proprio sbagliate. E invece io non mi sono pentita di nessuna decisione che ho preso, anche se poi le cose non sono andate come pensavo. Quindi quando ho deciso di smettere di fare ricerca quei sei mesi, uno potrebbe pensare a che cacchio è servito? Hai perso sei mesi della tua vita a fare una cosa che non è andata a finire a nessuna parte? Invece no, era quello di cui avevo bisogno in quel momento, ho fatto la mia esperienza all'estero che era importante. quei sei mesi non sono stati inutili, mi hanno comunque insegnato qualcosa. Fosse solo mi hanno fatto capire che mio marito era veramente la persona con cui avrei dovuto passare tutta la mia vita, infatti dopo qualche mese ci siamo sposati. O anche solo per il fatto che ho imparato a parlare meglio l'inglese, che ad esempio per me è servito per tradurre. Quindi in realtà io credo che non esistono tempi vuoti secondo me nella vita, o almeno dobbiamo essere, sta a noi cercare in qualche modo di trovargli poi un significato, perché in realtà ce l'hanno, cioè tutte le cose che noi facciamo nella nostra vita ci formano come persone e in qualche modo ci insegnano qualcosa o anche soltanto ci divertono, ma anche il mero divertimento, il mero piacere di fare una cosa nella vita secondo me è importante e poi in qualche modo ti serve. Tutte quante le cose che ho fatto, per quanto sparse, per quanto sembri o non avere un collegamento tra loro, alla fine mi sono servite. La scienza mi è servita anche all'interno della narrativa, mi è servita per imparare a scrivere fumetti. Quindi in realtà secondo me st'ossessione del fallimento devo seguire una strada dritta è sbagliato, perché genera soltanto frustrazione e in certa misura anche infelicità. Uno secondo me le cose per certi versi le deve anche un po' prendere come vengono. L'altra cosa che vi ho detto fin da principio, che è proprio la mia fissazione, è quest'idea che il sapere è unico. Perché io mi sono resa conto appunto che tutte quante le cose che ho fatto nella mia vita in qualche modo si sono parlate tra loro. È stato importante anche fare il liceo classico, come vi dicevo, perché comunque ho acquisito una certa forma mentis che mi è servita anche nella scienza. Saperne anche di lettere è una cosa appunto che ti apre la mente e ti aiuta anche nel lavoro scientifico e infatti è molto più facile trovare delle persone con una formazione scientifica che ne sanno anche di lettere. Anzi io conosco solo gente che è piuttosto ferrata anche sulla parte umanistica che viceversa. Proprio perché in realtà è una richiesta del lavoro scientifico avere la capacità di ragionare il più ampiamente possibile. Senza contare che peraltro io ho scelto una disciplina che è molto vicina anche alla filosofia. Ne parlavo proprio l'altro giorno. Ieri ho presentato questa autrice coreana di fantascienza che ha scritto questo libro molto bello di racconti che vi consiglio, è uscito proprio da poco. Si chiama L'origine delle specie che ha degli elementi scientifici molto solidi e contemporaneamente una riflessione filosofica molto profonda su chi siamo, su come ci possiamo definire, su quale sia il limite dell'umano. Possiamo definire chiaramente che cosa è umano e che cosa non lo è. E avevo fatto proprio a lei questa domanda sulla filosofia e la vicinanza che effettivamente ha con la fisica e in generale con la scienza. e non solo questo. Nella mia vita personale ho capito che erano due cose che si dovevano parlare e che mi sono state utili proprio nella discussione, diciamo, nella fusione tra le due. Ma è vero in generale questa cosa? Cioè l'artificiosa separazione tra scienza e lettere secondo me ha fatto male a entrambe nella nostra società. Vi faccio un esempio. Un mio marito è astrofisico come me, adesso lavora alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Perché? Perché la Biblioteca Apostolica Vaticana sta scannerizzando tutti quanti i manoscritti e i libri che possiede. Si tratta di un patrimonio sconfinato, due o tre milioni di libri credo. E per preservarli, loro fanno questa cosa per preservarli il più a lungo possibile, ovviamente. Perché, che ne so, il manoscritto ovviamente è molto fragile. Uno può aspettare che durerà in eterno. Quanto meno avrai almeno la copia digitale, che tra l'altro può essere utile ai ricercatori, che magari in alcuni casi non hanno bisogno di prendere la copia fisica e quindi rovinarla, ma possono usare quella digitale. Per conservare le immagini usano lo stesso formato delle immagini astronomiche. Perché il formato che si usa nelle immagini astronomiche è aperto, quindi anche non c'è bisogno di un software specifico per aprirlo. Una volta che l'hai aperto dentro ci sono tutte quante le informazioni sul significato, su cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quello, quando è stata presa l'immagine, eccetera, eccetera. Ed è fatto proprio perché appunto deve durare molto a lungo. Oppure sempre mio marito collabora con dei ricercatori all'interno della Biblioteca Apostolica Vaticana. Hanno pubblicato un articolo su un palinsesto. Un palinsesto è un pezzo di pergamena che era già stato scritto. La scrittura che c'era sopra è stata cancellata ed è stato riutilizzato. Questo perché la pergamena era molto preziosa e quindi si cercava di usarla il più possibile. Con alcune tecniche è possibile vedere il testo cancellato. Quindi loro sotto questo testo superiore hanno trovato quello che è un diagramma astronomico. Le tecniche che vengono usate hanno ovviamente a che fare con la fisica perché si tratta di particolari luci e anche l'analisi dei dati utilizza delle tecniche matematiche che si usano nella fisica. E questo diagramma a tema astronomico è molto importante perché è un'opera dell'ottavo secolo parzialmente scritta in greco e parzialmente in arabo. Quindi testimonia del momento in cui la cultura araba è entrata in contatto con quella greca e le due astronomie hanno cominciato a parlarsi. E questo è stato possibile perché c'erano gli esperti di manoscritti arabi e manoscritti greci all'interno della biblioteca e c'era mio marito che conosceva le tecniche scientifiche e conosceva l'astronomia. E poi questa è la cosa che vi ho detto alla fine. Bisogna uscire dalla comfort zone e provare anche a fare cose che possono sembrare molto lontane da noi. Sempre perché secondo me il peggio che può succedere è che non ci riesci e vabbè però almeno ci hai provato. Secondo me il grosso problema è quando manco ci provi. Che le cose non ti vengano nella vita e che ci possono essere dei fallimenti e nella normalità delle cose. Però non provare nemmeno secondo me è veramente il peccato diciamo la cosa un po' triste per la nostra esperienza personale e esistenziale. E vi dicevo io devo sempre farmi forza per uscire dalla comfort zone me ne dico un'altra. Fino all'anno scorso a me non era mai capitato di fare cose del genere perché pensavo beh ma la gente che gliene frega io non ho una grande conoscenza dei miei mezzi espressivi e quindi non posso insegnare niente a nessuno eccetera eccetera. A un certo punto invece mi sono detta sai adesso c'è uno slot libero nella mia vita perché mi hanno cancellato la trasmissione allora proviamo a fare questa cosa se non ci riesci non la fai più. Lo so che poi ovviamente io mi faccio 200 non è così facile come lo racconto mi faccio 200 miliardi di pip esistenziali quando una cosa non va bene però poi a un certo punto ci scendi a patti. E chiudo con una cosa che ho usato spesso in realtà durante le cose divulgative ma mi piace tanto e quindi la voglio dire anche a voi perché molto di quello che ho detto aveva a che fare con la cultura scientifica e la cultura letteraria e secondo me c'è questo brano che adesso vi vado a leggere che rappresenta perfettamente la fusione tra le due cose perché è stato prodotto da un'altra figura di confine che è Carl Sagan che era uno straordinario astronomo statunitense e un grandissimo divulgatore lui faceva la serie Cosmos. All'inizio degli anni 90 a un certo punto ebbe la seguente idea in quel periodo c'erano le sonde Voyager che giravano nel sistema solare avevano già superato Giove e Saturno e si trovavano nella parte più esterna quindi erano lontani mi pare un miliardo di chilometri sì mi sa che un miliardo di chilometri è una roba del genere molto lontana dalla Terra e erano fatte per guardare i pianeti del sistema solare lui disse visto che la missione sta arrivando verso la fine proviamo a girare le macchine fotografiche, chiamiamole così, di una delle due sonde Voyager verso la Terra e facciamo una foto della Terra così distante e la foto è questa qui che è molto famosa, si chiama Pale Blue Dot la Terra è quel puntino bianco, è grande un pixel, che vedete dentro il cerchietto azzurro le strisce che vedete sono raggi di luce, raggi di sole sono i cosiddetti artefatti dell'immagine, avete presente i lens flare, sono la stessa cosa questa immagine, quando Carl Sagan la vide, scrisse questa cosa che poi venne espansa in un libro io ve la leggo appunto per dare una chiusa su questa storia dei due saperi che si devono parlare e che si uniscono allora, da questo distante punto di osservazione la Terra può non sembrare di particolare interesse ma per noi è diverso guardate ancora quel puntino è qui, è casa, è noi su di esso tutti coloro che amate tutti coloro che conoscete tutti coloro di cui avete mai sentito parlare ogni essere umano che sia mai esistito hanno vissuto la propria vita l'insieme delle nostre gioie e dolori migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé ogni cacciatore e raccoglitore ogni eroe codardo ogni innamorato ogni madre e padre figlio speranzoso inventore ed esploratore ogni predicatore di moralità ogni politico corrotto ogni superstar ogni comandante supremo ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole la Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare per un momento padroni di una frazione di un puntino pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo quanto frequenti le incomprensioni quanto smaniosi di uccidersi a vicenda quanto fervente il loro odio le nostre ostentazioni la nostra immaginaria autostima l'illusione che noi si abbia un qualche posizione privilegiata nell'universo sono messe in discussione da questo punto di luce pallida il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande avvolgente buio cosmico nella nostra oscurità in tutta questa vastità non c'è alcuna indicazione che possa aggiungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi la terra è l'unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita non c'è altro posto perlomeno nel futuro prossimo dove la nostra specie possa migrare visitare? sì colonizzare? non ancora che ci piaccia o meno per il momento la terra è dove ci giochiamo le nostre carte è stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo per me sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu l'unica casa che abbiamo mai conosciuto e lui è anche un autore di fantascienza ha scritto esempio contact bene questo era quello che volevo dirvi grazie mille per l'attenzione adesso qualsiasi cosa vogliate chiedermi io sono qua la prima quanto lavoro c'è dietro a un mondo fantasy quanto uno bisogna informarsi mentre la seconda la seconda domanda riguarda come ti rapporti a una persona che crede che la terra è piatta allora di lavoro ce n'è tanto e allora alcune cose semplicemente le inventi però l'invenzione è sempre basata sul nostro mondo quindi che ne so fai le mappe io per fare le mappe vado a vedermi le mappe antiche e le mappe della terra attuale per dire a un certo punto volevo fare una mappa di un mondo che assomigliasse all'Europa e Nord Africa glaciale e quindi mi sono andata a vedere come erano in base a quello ricostruito le lingue sono andata a vedere le lingue nostre per dire in una delle ultime saghe che ho scritto 60 pagine d'appunti c'erano quindi tutte quante le lingue le caratteristiche etniche dei vari personaggi usi cioè scusate dei vari popoli usi costumi le caratteristiche dei personaggi le lingue scusate ma ogni tanto devi anche andare a informare su delle robe che ad esempio a un certo punto un mio personaggio doveva esumare un cadavere e io quindi dovevo sapere com'è il processo di decomposizione dopo tre mesi che cosa ci trovi in un cadavere che sta in mezzo alla terra oppure quanto tempo ci vuole quanto cammina un essere umano allenato in un giorno quanti chilometri fa quindi ce n'è veramente tanto poi io preferisco ottenere anche tanto spazio per la fantasia quindi tutte quante queste parti per me più che altro sono fonte di ispirazione per le cose che poi vado a scrivere anche la scienza e per la tua seconda domanda come ti rapporti con uno che pensa alla terra e piatta allora il problema dei complottismi è che non c'è nessun modo in cui tu possa far cambiare idea a una persona che è veramente convinta è proprio un tipo di ragionamento che si autosostiene e quindi io ci rinuncio cioè mi è anche capitato una volta uno si viene a far firmare il libro conosce l'autore tot faccio no come ma mi dica che libro è ma voi scienziati siete troppo poco aperti di mente per queste cose vabbè gli ho firmato il libro arrivederci grazie quindi poi devo dire la verità a me quelli della terra piatta sono quelli che tutta sommata mi stanno più simpatici perché non fanno tanto male a nessuno diciamoci la verità fanno male a loro stessi c'è uno che è morto perché si era autocostruito il razzo per dimostrare che la terra era piatta però ogni tanto ci sono delle storie veramente c'è uno che aveva raccolto i soldi per costruire questo strumento con il quale dimostrare che la terra era piatta e ha dimostrato che è sperica quindi con loro non ce l'ho particolarmente ho molti più problemi quando mi devo confrontare con qualcuno che ad esempio è antivaccinista cioè cose che oppure per l'uso delle medicine alternative per malattie gravi lì ho molti più problemi perché lì effettivamente fai del male anche alle altre persone che tu non ti voglia vaccinare sono fatti tuoi che tu non ti voglia curare in un certo modo sono fatti tuoi il corpo è tuo e ci fai quello che vuoi però quando cominci a fare propaganda convinci le altre persone e queste persone muoiono cominci a diventare pesante però anche lì purtroppo con quello veramente convinto non ci puoi fare niente puoi fare con le persone dubbiose puoi dare degli strumenti alle persone dubbiose e poi magari quelle si convincono Buonasera io in realtà mi chiedevo anche io due cose una è una cosa che mi chiedo da quando ho letto le cronache ed è se per il personaggio di Neil lei si sia un pochino ispirata a se stessa cioè se è un po' autoreferenziale come personaggio e la seconda domanda invece mi è venuta un po' spontanea da quando ho spiegato che ha partecipato al lancio del satellite per io mi chiedevo come è che si come funziona un satellite che mappa la galassia come funziona un satellite che mappa la galassia allora per la prima domanda sì quando uno scrive il primo libro ma magari questo anche lo saprete anche magari vera esperienza diretta uno ci mette proprio tutto 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 quello che ha pensato fino a quel momento quindi sostanzialmente Nihal è la mia adolescenza infatti quando la gente mi dice mamma mia quanto non la supportavo Nihal l'avevo voluto prendere a pizzi io in genere rispondo guarda pure io perché sono tutte le parti della mia adolescenza che spero di aver superato e che mi urtavano molto quindi sì sì però ci tengo a dire che è anche ispirato a vari fumetti tra cui uno è un fumetto italiano che è PK che è la versione supereroistica di Paperinik e al personaggio di Xadum che era questa aliena che era l'ultima della sua razza molto incazzosa come si suol dire per lei era pericoloso perché se l'ira diventava troppo forte diventava una supernova e quindi sicuramente me stessa però anche quello allora non è banalissimo a spiegare allora è quello che si è visto prima una specie di cappello e dentro c'ha due telescopi che sono messi più o meno quest'angolo e gira su se stesso e continuamente guarda tutto quanto il cielo in tutte le direzioni e prende delle immagini ok poi queste immagini vengono elaborate a terra quindi tu identifichi tutte quante le varie stelle e di quelle singole stelle questo satellite calcola la distanza che si fa tramite i cosiddetti spettri cioè se tu scomponi la luce di una stella riesci a ottenere una cosa che è tipo l'arcobaleno quando scomponi la luce del sole ma con delle righe in mezzo quelle righe ti dicono che elementi ci stanno dentro e in base a come sono spostate rispetto a quelle che c'è nel laboratorio ti dicono anche quanto si muove la stella quindi ne fai la posizione i cosiddetti moti propri cioè come si muove in cielo non per il movimento che c'è tutte le sere delle stelle proprio le stelle si muovono ok e si chiamano moti propri e anche delle caratteristiche su quanto sono luminose e qual è il loro colore quindi che tipo di stella è funziona questo è detto proprio in cinque secondi netti sì perché è una roba perché tra l'altro fa delle immagini strane perché c'ha i prismini per scomporre la luce è un casino infatti quando ci lavoravo era un incubo una roba veramente tremenda e però insomma più o meno diciamo funziona così io ho una domanda riguardo ai finali dei romanzi nel senso che ho notato almeno ricordando le prime trilogie che leggevo che molto spesso almeno diciamo la protagonista finisce bene ma non così tanto bene soprattutto non so Nial finisce in disastro completo la trilogia dopo e questa cosa si ripeteva tante volte mentre invece io sono sempre stata abituata al fantasy che ti lascia l'arcobaleno finale tutto bellissimo tutto perfetto come se il problema fosse stato completamente distrutto e mi ha sempre interessata questa cosa e mi chiedevo se è voluto se è pensato o se è successo e anche un po' come affronti la chiusura del libro Allora un po' mi è venuto fuori probabilmente naturalmente perché tante cose che scrivete vengono fuori naturali però in realtà è quello che penso in generale della vita qualsiasi cosa uno ottenga è in qualche modo momentanea nel bene e nel male poi le cose sono per forza destinate ad evolvere e quindi che ci sia un finale super conclusivo per cui tutto quanto va a posto mi è sempre sembrato un po' irrealistico uno più che altro raggiunge un equilibrio un equilibrio che poi per forza di cose uscirà un pochino e quindi ti dovrai aggiustare e così via il fatto che poi le cose possono sempre finire super bene con gli arcobaleni è un'altra cosa che secondo me è anche un po' positività tossica se vogliamo perché le cose che ti succedono nella vita per forza ti cambiano non puoi resettare è anche una cosa positiva non solo negativa tutto quello che ti è successo in qualche modo ti ha cambiato e quindi io voglio che questa cosa emerga all'interno dei miei personaggi che molto spesso portano anche dei segni fisici di questo cambiamento mi può capitare che ci abbiano una ferita un tatuaggio nuovo abbiano perso un arto fatte la pesca perché penso che sia così la vita uno non si deve aspettare cioè deve accettare quello che è successo e in qualche modo inglobarlo all'interno della propria esperienza quindi i finali che spesso sono così dipendono da questa mia visione diciamo dell'esistenza e su come li faccio qui è più complicato allora io sono una di quelle scrittrici che cerca di progettare tutto prima di cominciare a scrivere sempre per la solita storia dell'ansia perché mi era capitato poco prima di scrivere il mio primo libro di cominciare senza sapere dove andavo a parare e mi sono bloccata dopo un tot di pagine ero terrorizzata che questa cosa potesse ricapitarmi e quindi prima di cominciare effettivamente a scrivere mi faccio tutto uno schema in cui c'è anche il finale quindi diciamo viene proprio subito il percorso dei vari personaggi poi mi è capitato qualche volta di modificare il finale più che altro nel senso che magari pensavo inizialmente che alcuni personaggi dovessero sopravvivere altri morire e questa cosa cambiava però la linea di massima in genere è resta abbastanza fedele quindi più che altro cerco di fare un arco che abbia senso di modificazione perché poi a me quello che interessa di più è raccontare i personaggi anche quando fruisco una storia la cosa che mi colpisce più in assoluto sono i personaggi più ancora delle ambientazioni e tutto il resto e quindi cerco di costruire un percorso evolutivo per loro che poi a un certo punto si interrompe quindi più o meno in questo modo cerco di capire il finale e quando far finire la storia questo è vero per racconti dalla struttura la struttura classica come il mio se uno pensa ad esempio invece a Martin che è una struttura molto più centrifuga si chiama il trono di spade nella serie gli hanno dato un finale ma in realtà quella struttura lì potrebbe andare avanti all'infinito il trono di spade è un po' un pretesto per far andare avanti la storia perché poi ci sono così tante altre linee narrative e tantissimi altri personaggi che fanno altre cose che quello in realtà appunto potrebbe andare avanti in eterno al di là del caso che hai appena citato di base appunto come dicevi prima la narrativa parte da un equilibrio sedi di avvenimenti e si arriva in equilibrio nella divulgazione invece come trovi il punto di partenza il punto d'arrivo perché nella scienza sono paper dopo paper paper che citano paper sono articoli un albero che si apre nella vastità del mondo e quindi a un certo punto però c'è bisogno di mettere un punto di iniziare quindi nei tre libri per esempio che hai scritto come sei riuscita a costruire una narrazione anche che avesse un senso dal punto di vista scientifico allora quando si racconta qualcosa di scientifico è sempre importante dire queste sono le conoscenze attuali ci sono tantissime cose che io raccontavo vent'anni fa che adesso non sono più vere sono cambiate quindi quando racconti devi comunque dire alle persone questo è quello che sappiamo adesso poi magari scopriamo qualcosa di nuovo e si aggiunge però è vero come dici tu che se uno vuole cominciare proprio dall'inizio deve partire da Galileo Galilei ma nemmeno perché voglio dire a quel punto dovresti inserire anche le prime forme di approccio alla natura che è anche la mitologia la religione che erano dei modi di cercare di interpretare come funziona l'universo io in linea di massima parto da un'idea mentre nel primo libro in realtà l'idea effettivamente non c'era era semplicemente volevo fare un viaggio dal più piccolo al più grande una cosa se vogliamo molto basica però io quando comincio a fare una cosa nuova parto sempre dalle cose semplici quindi lì l'idea era questa ed era raccontare queste cose che ne so parlavo delle pulsar c'era la storia di Jocelyn Balburnel che è una grandissima astrofisica che l'aveva scoperta ma non ha preso il premio Nobel perché quando l'ha scoperta era giovane era donna e lavorava per due uomini che hanno preso il premio Nobel e che ne so parliamo di variabilità stellare beh c'è la storia di Henrietta Swan-Livit che ha scoperto la legge che collega la luminosità delle stelle al periodo di pulsazione e ha permesso Hubble di scoprire che l'universo è molto molto più grande di quanto credevamo ci sono dei punti di partenza e sono i punti di partenza delle singole scoperte se vogliamo c'era un momento in cui scopriamo questa cosa scopriamo che esistono delle sorgenti che si chiamano pulsar scopriamo che c'è questa relazione che si chiama periodo luminosità per il secondo l'idea invece era un'altra ho voluto raccontare 14 immagini dell'astronomia del cielo mettiamo più che dell'astronomia che secondo me erano particolarmente significative o che comunque mi avevano colpito particolarmente intendendo però con immagine una definizione molto ampia perché comincia con un affresco di Giotto che è la prima rappresentazione scientificamente più o meno accurata di una stella cometa e anche lì c'è una storia perché quel dipinto di Giotto è stata la prima volta che il generico Aster che sta all'interno del racconto evangelico per raccontare il prodigio che si vede in cielo alla nascita di Gesù viene associato a una cometa ed è quella la ragione per cui noi oggi parliamo di stella cometa nel presepe perché è stato Giotto che aveva visto due o tre anni prima di fare questo dipinto nella cappella degli Scrovegni una cometa per davvero che era la cometa di Halley se non sbaglio e la dipinta e da allora c'è stata questa associazione quindi lì era una storia in questo senso si partiva dall'immagine e dall'immagine ti raccontavo qualcosa e non sono soltanto immagini astronomiche belle ci sono anche cose che sono praticamente dei diagrammi ad esempio c'è un disegnino di Galileo Galilei delle posizioni dei satelliti di Giove quelli quattro più importanti che lui aveva scoperto c'è il grafico che mostra la prima onda gravitazionale che abbiamo mai osservato e infine nell'ultimo invece è le catastrofi che ci potrebbero uccidere l'astrofisica per ansiosi l'idea è ti cerco di spiegare quanto è probabile che l'universo cerchi di ammazzarci ad esempio con l'asteroide con la supernova oppure col sole con la luna e quindi il punto di partenza diciamo è più o meno quello scusate di qua mi rendo conto che vi ho dato continuamente le spalle allora intanto grazie mille io sono ho un passato da studentessa di fisica e quindi è stato molto emozionante vedere un universo alternativo per me insomma in questa roba qui in realtà sto scrivendo un fantasy con una mia amica fisica e volevo chiederti qualcosa sul world building un po' l'hai già toccato in realtà però io mi sono ritrovata con lei a fare otto mesi soltanto di world building perché un po' era bello infilare un sistema magico in un mondo inventato eccetera eccetera e un po' se una cosa non era precisamente coerente con la fisica non si poteva fare e si doveva cambiare tutta la fisica dietro e quindi non so se ti è mai successo di trovarti bloccata in quella cosa lì e dire ok adesso però a un certo punto dovrei anche raccontare la storia e se sei un metodo o se lo senti a sentimento allora conosco la sensazione però effettivamente non mi è capitato perché la parte che a me piace di più in assoluto è proprio la narrazione quindi tutta la parte di world building per me è propedeutica quella quindi la faccio anche un po' scocciata se devo essere sincera cerco di farla rapidamente perché voglia di scrivere però l'ho visto succedere ad altre persone e quindi indirettamente capisco qual è il meccanismo che c'è dietro e sì assolutamente è una cosa secondo me pericolosa perché rischi appunto di perderti là in mezzo e di non cominciare mai quindi da un lato ti posso dire la coerenza assoluta con le leggi della fisica secondo me è impossibile cioè la coerenza assoluta con le leggi della fisica è il nostro mondo e allora a quel punto quindi bene cercare di essere fisicamente accurati sicuramente anche perché può essere una fonte di ispirazione però usarla appunto come un punto di partenza per una creazione poi dopo e poi a un certo punto bisogna dire stop quando secondo me lo stop lo capisci quando hai elementi sufficienti per raccontare la storia quindi ti fai una tramina di massima di quello che puoi raccontare e vedi se hai elementi che ti bastano e lì generalmente è meglio averne qualcuno di più perché lo scrittore deve saperne sempre un pochino più del lettore perché io ho sempre pensato che un libro è un po' un viaggio e lo scrittore è la guida se manco lo scrittore sa dove stai andando non va bene e quindi secondo me devi vedere se hai gli elementi necessari per poter raccontare quella storia quindi magari poi magari mentre scrivi continui pure ad aggiungere cose fai altro world building se ti diverte se hai il bisogno di farlo però a un certo punto bisogna mettere un punto io in questo momento sto seguendo un ragazzo per un master di scrittura creativa che ho fatto per lo Yulm e io glielo ho proprio detto perché ho visto che lui proprio si strappassiona a questa cosa e quindi cambia questo cambia quello io ho detto a un certo punto devi cristallizzare le cose le fai poi semmai dopo torni indietro e modifichi quello che puoi modificare ma una base ce la devi avere perché se no non parti più i mondi immaginari sono labirintici uno tende a perderci grazie io volevo innanzitutto ringraziarla di aver scritto i suoi libri perché li ricordo con tantissimo affetto ricordo dell'atmosfera stupenda che mi ancora adesso anche se ho letti anni fa mi ricordo in linea di massima e quindi innanzitutto volevo ringraziarle di questo e poi volevo chiederle se c'erano dei libri o una saga che le era piaciuto di più scrivere rispetto ad altre intanto grazie a entrambi non volevo ringraziare in realtà il libro che ti piace di più scrivere è l'ultimo allora sicuramente il primo ha un posto speciale perché è tutto nuovo e quindi ci metti praticamente tutto di te e l'intensità con cui lo vivi non è paragonabile a quelli successivi appunto perché è un'esperienza completamente nuova però in linea di massima sono sempre gli ultimi quelli che in qualche modo mi sono piaciuti più in questo momento ad esempio la cosa che mi sono divertita più a scrivere nell'ultimo periodo è stato un giallo io per la prima volta ho provato a scrivere un giallo a tema astronomico che uscirà il prossimo anno il 12 gennaio e quello mi sono divertita da morire è stato proprio perché era una cosa nuova non avevo mai provato con un genere che non fosse il fantasy e la stessa sensazione ce l'ho avuta anche quando ho cominciato a scrivere la prima volta Le guerre del multiverso che era molto più fantascientifico rispetto alle cose che avevo fatto prima e quindi avevo questa sensazione di libertà assoluta anche perché era ambientato nel multiverso quindi c'erano infinità di universi e mi potevo inventare assolutamente quello che volevo era divertentissimo grazie grazie tantissimo veramente grazie